FUEDERIS ARCA FUEDERIS ARCA FUEDERIS ARCA è l'ultima opera del comunicazionismo mariano causa polemica sulla legittimità dell'operato è un lavoro che scende ulteriormente nei meandri della religione affrontando il tema della legge di Dio tema che agli occhi di un artista risulta di assoluta perfezione in quanto opera suprema creata dal Dio stesso. rielaborata in chiave comunicazionista ne esemplifica le significanze non ci 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 non ci